Escono fuori i nomi di Enzo Bianco, Francesco Rutelli e Matteo Renzi nel corso dell'audizione Fiume durata all'incirca tre ore di Luigi Lusi, l'ex tesoriere della Margherita accusato di essersi indebitamente appropriato di circa 21 milioni di euro dai conti del partito. Lui chiarisce i meccanismi dei finanziamenti, attacca il partito, dice ho agito come fiduciario e lascio nelle casse 20 milioni. Nella giunta per le autorizzazioni del Senato Lusi sostiene che Matteo Renzi, sindaco di Firenze, avesse chiesto una cifra intorno ai 120 mila euro, suddivisa in tre fatture, poi il leader Rutelli mi ha chiesto di non pagargli la terza e così ho dato a Renzi solo 70 mila euro. A Enzo Bianco invece veniva fornito, sempre secondo il racconto di Lusi, un mensile di 3 mila euro, poi passato a 5 mila 500 e a una società di Catania legata al marito della segretaria di Bianco, sarebbe stata fornita una cifra di circa 150 mila euro erogati, racconta l'ex tesoriere, tra il 2009 e il 2011. Oggi la notizia è pubblicata su tutti i giornali e il sindaco di Catania Raffaele Stancanelli, spesso e volentieri oggetto di attacchi sferrati da parte del senatore del PD ed ex sindaco di Catania, si toglie un sassolino dalla scarpa e commenta, seppur sarcasticamente, la notizia. Sindaco, su tutti i giornali questa mattina le confessioni di Lusi, ce ne sono anche parole per Enzo Bianco? Sì, ma io non sono abituato a commentare le disgrazie altrui, non mi interessa, ma non è giusto perché io faccio il sindaco di Catania, l'ho sempre detto, mi dispiace che questo sia avvenuto, ecco perché quando qualcuno parla più del solito, io ricordo quando Bianco diceva che io ero uno addormentato, che ero in sonno, io non ho mai risposto, non rispondo, purtroppo è successa questa cosa, ognuno risponde, ma ecco non voglio fare polemica, non mi interessa parlare, io voglio fare il sindaco di Catania, voglio amministrare per i catanesi, non do lezioni mai a nessuno, non riesco a dare lezioni a nessuno, ecco chi fa il maestrino, prima di fare il maestrino deve sapere cosa fa, io non voglio fare il maestrino, voglio amministrare Catania nell'interesse di tutti i catanesi. Quindi chi non ha peccato scagli la prima pietra? Ma questo l'ha detto il nostro signore Gesù Cristo, quindi immagini se io sono un cattolico osservante e credente, è chiaro, chi è senza peccato scaglia la prima pietra, quindi non scagliamo pietre, perché ecco non scaglino pietre, tutti questi moralisti da strapazzo. E lei un'idea però che comunque se l'è fatta? Già me l'ero fatta da molto tempo l'idea io. Intanto sulla vicenda in questione giunge nota dello stesso senatore Enzo Bianco, l'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi ha ribadito ieri sera in Senato, quanto già ampiamente diffuso attraverso i giornali col malcelato scopro intimidatorio il 3 e il 9 marzo scorsi, ha dichiarato Enzo Bianco, e cioè che con le risorse del partito venivano finanziate attività politiche come normale che sia. Tanto gli accrediti quanto le fatture passate attraverso una società che ha un regolare contratto con la Margherita per la fornitura di servizi in questione erano riferite a retribuzioni di collaboratori, affitto di sedi, stampa dei manifesti, organizzazione di convegni, pubblicità nei giornali. Attività per un soggetto politico prosegue Bianco non solo lecite ma doverose. Io non ho trattenuto un solo centesimo e se Lusi o chiunque altro afferma il contrario lo trascinerò in tribunale.